Portata a casa, ce la siamo messi nel taschino. Tre punti per la Juventus, che vince in trasferta a Udine per 2-0. Una partita particolare, sicuramente non la partita più bella del mondo, questo credo che possa essere condiviso da tutti quanti, ma una vittoria importante per la Juve, perché in questo momento qua la Juventus aveva tremendamente bisogno di questi tre punti. Sarebbe stato un bel problema, non portare a casa oggi la vittoria, invece la Juventus l'ha fatto ritrovando anche una buona compattezza dal punto di vista difensivo, ritrovando il clean sheet. Era un po' che la Juventus aveva bisogno di rimettersi a posto dietro, ma non è stata una partita come le prime del campionato o comunque della stagione. Non è stata una partita in cui la Juventus non ha rischiato niente, in cui ha solo dominato il gioco, eccetera. È stata una partita particolare, dicevo in apertura, perché è stata una partita dove la Juve parte molto bene, secondo me fa un buon primo tempo, la Juventus, di gestione del pallone, di pieno possesso. La Juventus è stata molto brava, secondo me, a sovrastare l'Udinese con il giro palla, con una reaggressione molto importante. Quello che mi è piaciuto davvero oggi della Juventus è stata la reaggressione del pallone. Una Juventus che dal punto di vista fisico ha fatto una partita differente rispetto a quella di Parma, dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista anche della concretezza. È stata una bella Juve da quel punto di vista. Una Juve che sblocca la partita su una gran giocata di Turam, secondo me su quelle giocate che valgono le partite. Perché le partite, quelle un po' in bilico, quelle un po' mezzo e mezzo, quando sei ancora sullo 0-0, un giocatore fa una giocata del genere che ti cambia l'equilibrio, l'inerzia della partita, è una giocata che vale davvero tre punti. Quella di Turam è stata una giocatona, dopo una bella azione corale della Juve, dopo una ripartenza, dopo una palla recuperata da Rocateli, la Juventus è andata a distendersi molto bene sulla sinistra, e poi è entrato in gioco Turam, che ha fatto un numero quasi alla Pogba Prime, possiamo definirlo così. Ha calciato molto bene, sfortunato nel palo, fortunato nella mossa a Rabiliardo che trova la schiena del portiere, la Juventus passa in vantaggio con un autogol, che se è di autogol forse difficilmente possiamo parrare, perché veramente è stata una gran bella azione, una gran bella conclusione. Una Juve che poi, nei minuti successivi al vantaggio, forse lascia un po' troppo spazio, un po' troppo campo all'Udinese, con anche degli errori banali a volte, degli errori proprio di palleggio, a bassa intensità, una Juventus che non ha ancora guadagnato questo giropalla veloce, una Juventus che deve migliorare, velocizzare tantissimo la manovra, perché sta facendo fatica a giocarla con le tempistiche giuste, e da qui è arrivato probabilmente quel 5, 7, 10 minuti in cui l'Udinese è tornata fuori a mettere il becco nell'area, anzi più nella metà campo dell'Udinese, che poi si è trasformato anche nell'area su una ripartenza di David Devis, se non erro, il numero 9 dell'Udinese, che tra l'altro è un giocatore interessante, secondo me ha fatto una partita molto molto interessante, con una risposta di Di Gregorio in calcio d'angolo. Poi la Juve trova ancora una volta un break, trova un'altra giocata, questa volta invece di Ildis, e non più di Turan, ma ancora bene o male, dalla stessa posizione, trova ancora una volta lo stesso palco, che questa volta però non va verso l'interno, lo specchio della porta, dalla parte opposta arriva Savona, e credo che sia stato molto molto bravo Savona a insaccare quel gol, è andato con i tempi giusti, è andato con la potenza giusta, è andato anche con il suo piede debole, è stato veramente un bel gol del nostro numero 37, che fa gol soltanto con la maglia gialla, gol del 2-0, l'Oriventus mette un pochettino la partita in ghiaccio, cerca di dare continuità al possesso del pallone, dato che l'Udinese praticamente non l'aveva mai avuta, e arriva alla fine del primo tempo, in una partita in cui l'Udinese ha fatto tanti falli, anche abbastanza brutti a volte, dove non ci sono mai stati cartellini gialli, a un certo punto io pensavo che l'arbitro non avesse davvero i cartellini, poi quando nel secondo tempo ha munito subito l'Ocatello, ho detto ah ok, allora forse ce li abbiamo, ma questa è un'altra storia. Quando la Juve arriva a fine primo tempo con un 2-0, dove non ha creato tantissimo, è stata brava a finalizzare quelle grandi occasioni da gol che aveva avuto, ma anche una partita di Champions tra pochi giorni, il mio pensiero è stato, uno, torni in campo e cerchi di salvaguardare i giocatori che stanno giocando tanto, li sostituisci, giocatori come Comeners, come Vlaovic, Vlaovic perché ha giocato tante, Comeners perché torna da un infortunio, quindi non avrà 90 minuti, spoiler, Comeners poi l'ha giocata tutta, secondo me ha fatto una partita molto molto bella dal punto di vista qualitativo, meno dal punto di vista fisico, si è visto un giocatore che sta facendo fatica perché è tornato l'infortunio, sta subendo questa difficoltà proprio nel ritrovare la corsa, la fatica anche perché Lacostra poi ti porta ad avere una respirazione differente, ma di questo poi parleremo successivamente, non avere infortuni perché sinceramente andare a trovare anche degli infortunati dopo che la Juventus aveva messo la partita sul binario giusto sarebbe stato francamente una stupidaggine e mi sarebbe piaciuto tornare in campo e fare dei gol, perché la Juventus deve tornare ad avere l'abitudine di fare gol, questa Juventus è una squadra che sta ancora segnando troppi pochi gol, quindi ha necessità di tornare in campo quando le partite sono così e provare a sbloccarsi, non con l'ossessione di andare a fare gol, però col possesso palla, con la difesa del pallone quando la palla ce l'hai te, sugli altri che devono correre, sugli altri che devono faticare, sugli altri che devono fare gol, gli altri che devono accorciare, sugli altri che devono uscire sudati dal campo, non te. Invece purtroppo secondo me la Juventus non è tornata in campo con un grandissimo atteggiamento, tant'è che l'Udinese ha avuto tante occasioni da gol abbastanza pericolose, una dove ha segnato ma con un palisissimo fallo sempre di Davis tra l'altro su Gatti che poi va a insaccare proprio Davis a porta vuota, ma quella spinta aveva completamente cambiato totalmente l'inerzia di quella che poteva essere un'azione difensiva della Juventus con Gatti che non riesce ad arrivare sul pallone, Di Gregorio che becca un rimpallo e quindi se la fa scappare in diretta mi sembrava una frettata, invece quello è stato palesemente uno spintone evitabilissimo da parte dell'attaccante dell'Udinese. Però in generale la sensazione secondo me nell'area era che l'Udinese potesse fare un gol da un momento all'altro, tant'è che in occasione della traversa di Lucca non mi sono meravigliato tanto, perché l'Iventus aveva abbassato tanto i ritmi. Ora, l'Iventus ha fatto un'ottima gara dal punto di vista dell'intensità, perché l'Iventus, lo torno a dire, ha fatto una partita di re-aggressione meravigliosa, secondo me, ed è ovvio che vada a calare l'intensità con il passare del tempo, ha maggior ragione se poi togli Blaovic, fai fatica a tenere la palla alta perché Ildis, il centravanti, te lo fa con altre caratteristiche, questo è assolutamente un dato di fatto. Però magari l'intensità non è calata solo per questo, ma è calata anche perché la Juve, ripeto, martedì sera, avrà una partita di Champions e quindi era convinta di riuscire a portarsi a casa la partita senza dover andare a fare chissà quale sforzo. Perché oggi ho visto molto meglio la Juventus dal punto di vista fisico, vi avevo detto che l'avevo vista stancho in occasione di Juve Parma 2-2, oggi l'ho vista decisamente meglio, ma sul finale mi è quasi sembrata una volontà della Juventus di tirare un po' i remi in barca per cercare di rifiatare, non dover andare ad impegnarsi così tanto a consumare energie inutilmente in vista di quelli che possono essere i prossimi impegni. Non so se anche voi l'avete vista così, mi sarebbe piaciuto vedere una Juventus più, ancora, non più, ancora più in gestione, perché la Juve comunque la partita nel secondo tempo ha provato a gestirla, ma ancora più in gestione dal punto di vista del palleggio del possesso palla, anche perché le occasioni che aveva regalato l'Udinese, quelle rare volte magari prima del forcing finale dell'Udinese, dove ha messo Luca, andava a crossare, Calullo ha sofferto abbastanza tra l'altro Luca, questo è da dire, l'Udinese era riuscito a trovare delle vere, concrete occasioni di gol soltanto quando la Juve passava la palla agli avversari. Mi viene in mente un pallone bruttissimo di Cambiaso nei primi minuti di secondo tempo, che praticamente mette la palla al limite dell'aria e i giocatori dell'Udinese vanno a fiondarsi lì per cercare di farci del male. Quindi una partita che non rimarrà negli annali, non sarà una partita indimenticabile, non è una partita della svolta in positivo, non è una partita di quelle che dici, ecco, quel giorno che è successo quella roba lì, ce lo ricorderemo perché è stata una partita di transizione, possiamo dire così, di quelle che servono anche per imbagazzinare un po' di fiducia e di coraggio, perché secondo me oggi la Juventus ha ritrovato fiducia e coraggio e qualitativamente è migliorata tanto negli ultimi metri, o comunque anche banalmente nei cambi gioco grazie a Cobainers, non per via di un gioco corale diverso, ma perché Cobainers è un giocatore che ha un piede incredibile, oggi è giocato quasi da fermo con Cobainers, perché era limitatissimo dal punto di vista fisico, ritornerà, forse anche quello è il motivo per cui Tiacomotta l'ha tenuto in campo, per fargli macinare minuti, fargli far minuti, è stata una partita con una vittoria giusta della Juve, una partita che ci lasciamo già alle spalle, ora che abbiamo vinto benissimo, ci siamo portati a casa di tre punti, osserviamo cosa faranno le avversari in Serie A, prepariamoci per la Champions, perché sarà una vera e propria guerra, aspetto le vostre considerazioni, qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo con il prossimo video che uscirà domani, ciao ragazzi!